Allora, buonasera a tutti e a tutte. Cominciamo questo incontro. L'abbiamo voluto chiamare oltre il 14 dicembre con un piede nel futuro perché abbiamo un po' la sensazione che il 14 di dicembre non sia stato il solito corteo romano che magari chiude la spinta di un movimento studentesco che nell'autunno si dispiega, ma abbiamo una sensazione tra di noi completamente diversa. Detto ciò non ci interessa concentrare evidentemente questa discussione sull'espressione di rabbia, indignazione, di forza della giornata del 14, ma ci interessa provare un po' a capire come oltre il 14 diciamo così dentro una situazione sicuramente complessa dal punto di vista politico ma piena di potenzialità e di possibilità una serie di sensibilità che i Wuming hanno sempre avuto rispetto alle tematiche delle narrazioni, laddove l'elemento delle narrazioni per i Wuming e nemmeno per noi è qualcosa di separato, cioè che in qualche modo si dà a lato, a margine, fuori dalla materialità dei processi che costruiscono poi il divenire delle cose, delle soggettività. Ci interessava molto onestamente fare un'introduzione su quello che per noi banalmente è un po' lo stato dell'arte e a partire da quello sviluppare un discorso e una discussione che sappia intrecciare diciamo così la consistenza, la forza delle narrazioni dentro a un insieme di problemi politici che sono appunto problemi perché scaturiscono da una possibilità che ci troviamo di fronte. Il nostro interesse di una discussione con i Wuming non è un interesse che nasce oggi, è sempre stato contemporaneo alla nascita e allo sviluppo politico di questo posto, ma anche di Bartleby come collettivo politico. Noi per stare semplicemente agli ultimi mesi, alle ultime settimane abbiamo letto con molta attenzione le analisi che venivano proposte dai Wuming attorno agli elementi di innovazione, ad esempio del bookblock, laddove per noi è interessantissimo cercare di capire come una pratica che abbia riaperto il terreno del consenso, cioè noi veniamo anche da mesi nei quali tirare un fumogeno o tirare un uovo era più o meno sinonimo di terrorismo dentro un'esperienza di movimento a partire dall'università, la pratica di attaccare, aggredire i luoghi del potere, ne dico uno, il senato con un meccanismo che mettesse al centro la praticabilità di quell'obiettivo, ma anche dei linguaggi, anche dei libri che banalmente quei titoli stanno anche a rappresentare per noi molto spesso ciò che vorremmo studiare all'università, ciò sul quale noi vorremmo provare a fare ricerca, cioè quei libri e la scelta di quei libri c'è anche dietro un desiderio di libertà che non vogliamo esterno ma interno alle nostre pratiche formative, alle nostre pratiche di ricerca ecco quindi ci abbiamo letto anche diciamo così in chiave simbolica tutta quella spinta alla ricerca indipendente, all'autoriforma, all'autoformazione tutta quella spinta a cambiare qui e ora il nostro presente dentro un fare, che è non solo fare università ma per noi è anche dentro i circuiti di produzione di creazione del sapere capire che o questi processi vengono definiti dentro una spinta di autodeterminazione, di libertà oppure è qualcosa che più o meno assomiglia a un'imposizione esterna quindi dicevo un interesse per la tematica delle narrazioni come interna all'esercizio della trasformazione del presente questo ci interessa molto sviluppare dentro anche questa discussione poi dicevo per essere onesti dall'inizio è anche utile secondo me che noi presentiamo un po' come vediamo il nostro presente perché anche in questa fase questo è un esercizio assolutamente utile alla pratica e all'invenzione politica noi siamo di ritorno da una giornata straordinaria, quella del 14 non riprendo un insieme di questioni che si sono sviluppate anche dentro il blog dei Wuming su Genova e Roma e quant'altro dico banalmente che dal mio punto di vista Roma e Genova sono due storie molto molto diverse leggevo su Facebook qualcuno che suggeriva di abbandonare per un po' i libri di storia e aprire i libri di geografia io sono molto d'accordo su questo nella bellissima lettera che ha scritto un compagno di Bartlevi, Paolo in risposta a Saviano questo è spiegato in termini anche molto esaustivi cioè per leggere la dinamica europea del 14 io penso che dobbiamo ben più guardare alle rivolte di Londra, di Parigi, di Atene, di Madrid a noi contemporanee per leggere le soggettività che si esprimono, le forme dell'espressione è anche un'indignazione di fondo che da presa di parola singolare e individuale si fa rivolta a Jacquerie e ribellione collettiva dico che però la posta in palio che abbiamo di fronte ora è secondo noi reinventare la pratica politica dopo la Jacquerie cioè assumere la Jacquerie come un processo di indignazione, di rabbia che evidentemente dice delle cose, cioè non è muta quella cosa il problema è cercare di tradurre quel linguaggio dentro al terreno di una pratica politica costituente questo che significa banalmente? significa afferrare le complessità di quella piazza che certamente si nutrono e partono dalla consistenza dei processi di mobilitazione che vedono nell'università, in questo paese, ma anche in Europa sia sulle trasformazioni dell'università sia nel rapporto ridefinizione del mercato del lavoro dello statuto della cittadinanza, dello statuto dei diritti e trasformazione del mercato e quindi della dequalificazione dei saperi un nodo centrale perché solo questo ci fa leggere il CPE in continuità la battaglia del CPE e la battaglia dell'anno scorso in Francia in continuità con l'Italia con quella torre tanto importante messa a ferro e fuoco dagli studenti, dai ricercatori inglesi pochi mesi fa e quell'insieme di battaglie che si stanno dando dentro lo spazio europeo dico, il problema che noi abbiamo davanti ora è un problema che assume evidentemente la forza del movimento che nasce nelle aule universitarie che nasce dentro le scuole ha una capacità di impatto assolutamente esplosiva quindi a partire da quei posti capire come qua e ora dentro anche un movimento che ha una concezione della temporalità secondo me straordinariamente interessante questo è un movimento che non vuole dilatare nel futuro la trasformazione ma che pensa il presente come luogo di trasformazione dello stato di cose esistenti di individuare lì dentro dei processi di trasformazione e quindi anche un pragmatismo che è agganciato alle pratiche che portiamo avanti non sto a riassumere c'è stato poco fa al 38 secondo me un importante appuntamento del laboratorio di autoriforma che immagina come ricerca indipendente autoriforma autogestione del percorso formativo rifiuto della gratuità degli stage e dei tirocini possano essere articolazioni concrete e dunque campo di battaglia non solo degli studenti ma di chi vuole trasformare questa università al di là di ogni nostalgia del pubblico dobbiamo anche definitivamente dire che battersi contro il DDL quindi battersi contro la dismissione della formazione della ricerca significa immediatamente non la difesa dello status quo ma organizzare dei luoghi pubblici di incontro tra figure eterogenee per ricostruire l'università per fare un'università che sia dentro l'esperienza comune e dentro l'esperienza comune allarghi la nostra capacità di fare di esistere di definire quello che vogliamo studiare e le modalità con le quali noi vogliamo esprimere le esperienze di ricerca e della formazione evidentemente questo punto finora mi sono limitato a un discorso centrato sull'università nella quale la sfida è tradurre l'intensità della Jacquerie in quel problema che da anni identifichiamo con una parola magari un po' scomoda ma per capirci il problema delle istituzioni cioè come noi creiamo dei modi di stare assieme di partecipare di decidere di fare di creare che siano realmente spazi pubblici al di là dei perimetri identitari precostituiti questo è un problema importante dentro il quale si definisce la capacità del fare di un movimento e anche la possibilità di costruire la durata come intensità della proposta politica più in generale però io penso che la data del 14 sia stata una data particolarmente interessante perché appunto perché non c'erano solo gli studenti perché c'erano nonostante una serie di questioni non lisce con la FIOM c'era una parte della FIOM lì c'erano i terremotati dell'Aquila c'erano i migranti di Brescia c'era Terzigno cioè questo è uno spazio di esperienza politica assolutamente interessante Guming spesso dicono che ci sono tante lotte in fondo tutte queste lotte sono una lotta evidentemente penso che quando si dica questo non si intenda negare il portato delle parzialità delle singolarità i problemi specifici anche i differenziali di sfruttamento e dei coefficienti di governamentalità che si danno su figure eterogenee nessuno di noi pensa che il livello di ricatto di un migrante clandestino sia identico al mio se lo pensa penso sia esattamente un pazzo però il problema che abbiamo di fronte è appunto quello della durata della continuità e dentro a dei luoghi nei quali noi possiamo sperimentare la presa di parola ma anche più in generale dentro un portato di connessione possibili noi l'abbiamo scritto nel nostro documento dopo quella giornata è evidente che la democrazia dei palazzi la democrazia rappresentativa sta dentro a una crisi irreversibile è evidente che le possibilità di presente e forse anche di futuro stavano in chi stava in quelle strade e in quelle piazze e lo dico chiaramente in chi quelle strade e quelle piazze non ci è potuto andare perché noi abbiamo organizzato dei pullman e purtroppo pur facendo mille feste mille incontri mille cene per la prima volta da quando io ma altri anche altri fanno esperienza di questa cosa tantissima gente non è potuta venire a Roma ma ci sarebbe voluta venire questo per dire che è a partire da questa forza che è immaginabile che cosa significa oggi la parola politica come costruzione collettiva del nostro presente e più in generale rispetto a questa dinamica appunto larga di connessione dell'eterogeneità di connessione delle esperienze io penso che l'esercizio della narrazione sia un esercizio assolutamente decisivo cioè sia un esercizio assolutamente decisivo perché in primo luogo se noi guardiamo a quel tratto diciamo così generazionale che caratterizza anche il protagonismo di tanti movimenti anche prima di noi eh guardate bene ma anche di questo movimento è dentro però anche un insieme di blocchi che fanno di questo movimento una peculiarità rispetto ai movimenti del passato cioè il quadro sociale e politico che noi abbiamo in Italia e in Europa in questa fase è un quadro assolutamente specifico dove c'è una componente generazionale che non ha diritti garanzie non ha nessun tipo di rapporto formazione lavoro cioè qui c'è un blocco della nostra possibilità di esistere cioè un meccanismo che crea degli elementi di blocco che produce miseria e povertà laddove non produce miseria e povertà come nulla ma come blocco della nostra possibilità di fare di esistere di avere una vita degna piena no? perché penso che poi anche il vittimismo siano dei rischi da evitare cioè noi ci ribelliamo ma a partire dal fatto che vogliamo essere e decidere con gli altri quello che vogliamo diventare cioè è una potenza che viene bloccata così deve essere letta secondo me gli effetti della crisi economica e sociale su questa generazione e da questo punto di vista è assolutamente decisivo il terreno delle narrazioni io penso che un movimento che non riesce a dire la verità su di sé sia un movimento che faccia fatica a trovare dei luoghi di incontro con l'altro noi abbiamo anche un po' il problema che per anni una serie di disagi insufficienze mancanze del presente del nostro contesto ce la siamo molto spesso vissute o al bar o nel rapporto diciamo così privato non è che voglio riaprire la diattiva pubblica e privata non è questo il punto però per capirci certe cose quasi non si potevano dire perché se le dicevi tu eri uno sfigato diciamo che tutta la retorica meritocratica arriva anche da questa costituzione soggettiva del rapporto col sé allora dunque dire la verità su di sé assieme agli altri e l'esercizio della narrazione è un esercizio fondamentale in questo secondo noi ha un potere una potenza una forza di tradurre una questione generazionale che molto spesso viene enunciata come fatto reale materiale in dispositivo politico banalmente nell'individuazione di punti nodi fuochi sui quali cominciare a lottare e penso che appunto l'esercizio del racconto sia un esercizio decisivo e dentro questa dinamica generazionale ma più in generale per tenere assieme l'eterogenità delle temporalità l'eterogenità dei conflitti l'eterogenità delle prese di parola che una giornata straordinaria come quella del 14 dicembre ci consegna migranti beni comuni la questione del salario la questione del reddito la questione della reinvenzione dell'università cioè abbiamo bisogno di un noi che sia sempre più grande di noi che non basti a se stesso perché non abbiamo bisogno di perimetri in questa fase ma semmai di riproporre in formule completamente nuove non so se la parola egemonia è una parola adeguata però la possibilità di parlare a tanti e a tante perché in noccioli duri mi sembra che stiano venendo fuori il problema della precarietà come ricatto sulla vita il problema dell'assenza delle garanzie un blocco della libertà complessiva penso che siano questioni che riguardano buona parte di quella composizione dei poveri che si sta costituendo come effetto della crisi o meglio come il governo di qualcuno della crisi ecco forse l'ho fatta un po' lunga ma da questo punto di vista io volevo essere anche schietto in sede introduttiva visto che se discutiamo lo facciamo veramente lo facciamo a partire dai problemi che abbiamo di fronte per avere un confronto con tutti quanti voi che siete qua oltre che con Federico e Giovanni e a partire da questo come proposta finale dentro le difficoltà del presente ci si fa anche sulle mani che si lavora dentro all'università cercando un rapporto con gli altri cercando appunto la difficoltà di definire dopo la sciaccherie degli elementi di continuità e quindi di creare degli spazi d'incontro questo può essere uno di questi nei quali dare respiro e continuità alle mobilitazioni ecco la mia proposta finale è che magari questo posto possa anche ospitare un laboratorio di scrittura nel quale tutti insieme a partire da noi stessi e nell'incontro con gli altri proviamo a definire che cos'è il nostro presente grazie 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 grazie